Buongiorno a tutti, terza giornata delle giornate della filosofia, siamo partiti un po' in ritardo per questioni tecniche, quindi passo subito la parola a Girolamo De Michele e la sua relazione su Gramsci postcoloniale. Ricordo che al termine della relazione del professor De Michele ci sarà la relazione del professor Ricci, quindi buon ascolto e buon proseguimento con le giornate della filosofia. Ok, intanto grazie a Giuseppe che è l'organizzatore di queste giornate e quindi doppiamente grazie per la presentazione e per il contenitore. Il mio intervento si intitola Gramsci postcoloniale, ovvero come i subalterni possono prendere parola. Inizio con una citazione, benché in Italia Antonio Gramsci non sia più di moda, la storia di come le sue idee abbiano avuto una nuova vita in un continente lontano e abbiano prodotto opere e dibattiti su questioni politiche molto diverse, potrebbe interessare qualcuno. Forse i lettori italiani troveranno sorprendente che le teorie nate dai problemi del mondo postcoloniale possano illuminare i problemi dell'Europa attuale, ma dopotutto per due secoli il resto del mondo si è sentito dire che le teorie emerse dalle esperienze storiche dell'Europa andavano bene per tutti. Così scriveva Calcutta, capitale del Bengale indiano, nel 2006, Parta Chatterie, introducendo l'edizione italiana di un suo libro. Queste parole rivolte ai lettori italiani suonano problematiche. Può sembrare bizzarro che un pensatore dell'importanza di Antonio Gramsci sia passato di moda nella sua terra natale. Ancora più che mentre il suo nome declinava in Italia, la traduzione inglese delle sue opere dava impulso a una straordinaria stagione filosofica e culturale in India. E infine sembra un'anomalia, e in effetti lo è, che le letture indo-bengalesi del filosofo e politico sardo abbiano avuto un vivificante effetto di ritorno in Italia. Ma è bizzarro il fatto stesso che queste parole siano pronunciate da un pensatore bengalese, che non figura nei manuali di filosofia. Così come non vi figurano Chakrabarti, Spivak, Gua, per restare al subcontinente indiano, o il palestinese Eduard Said, il camerunense Achille Mbembe, il caraibico Stuart Hall, il giapponese Naoki Sakai. In compenso, i nostri manuali abbondano di pensatori che hanno oggi poco da dire e ancora meno da dare, la cui presenza si giustifica solo per il persistere del pregiudizio che vuole la filosofia essere cosa solo occidentale ed eurocentrica. E' per essere questi pensatori i grani di un rosario che deve essere svolto senza soluzione di continuità, ripetendo una litania che agli autori della manualistica italiana è stata insegnata da De Ruggero e Canfora, a cui la recitò Benedetto Croce, che l'ha lesso in Kuno Fischer, che l'ha preso in Georg Hegel, che al mercato mio padre comprò. E lo stesso si potrebbe dire per i narratori indiani di lingua inglese, uno fra tutti Amitav Ghosh. Queste omissioni, ingiustificabili nell'epoca della globalizzazione, chiamano in causa la stessa scuola italiana, che contribuisce di fatto a mantenere una vasta area di ignoranza sui mondi esterni alla ridotta provincia europea. Il dramma dei due pescatori indiani, uccisi dai fucilieri italiani di scorta a una petroliera perché creduti di essere pirati, qualche anno fa, mostrò che una parte importante dell'opinione pubblica italiana dell'India sa quanto, e forse neanche, si può ricordare dalle giovanili letture di Salgari. E questa è un'ignoranza nella quale germina la xenofobia razzistica. È stata quindi salutare la ventata di novità rappresentata dal terreno comune che si è creato fra i quaderni di Gramsci e gli studi subalterni e postcoloniali di luoghi nei quali la filosofia oggi è senz'altro più viva e vivace che in Italia. L'elemento di maggior rilievo mi sembra essere il fatto che questi studiosi non si chiedono che cosa ha veramente detto Gramsci, ma che uso possiamo fare oggi dei concetti di Gramsci, che è la linea che cercherò di seguire qui. Che cosa dunque di Gramsci fa lievito nel pensiero postcoloniale degli ultimi decenni? A me sembra di poter individuare quattro temi. L'attenzione verso Gandhi, attenzione, Gramsci scrive tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 e muore prima che la battaglia di Gandhi giunga a conclusione e all'indipendenza. La riflessione sul folklore, il concetto di subalterno che è senz'altro il più importante e problematico e la concezione gramsciana della traduzione. Gramsci mostra un'attenzione a dir poco sorprendente verso Gandhi. Conoscitore attento e imprescindibile di Machiavelli, benché limitato al solo principe e non ai discorsi, che come noto sono l'opera più rilevante del segretario fiorentino, Gramsci non ama i profeti disarmati. Savonio Arola gli appare astratto e fumoso. Il francescanesimo medievale un esempio dell'impotenza politica delle grandi masse. Persino Francesco d'Assisi è letto da Gramsci come uno che non vuole lottare, cioè non pensa neppure a una qualsiasi lotta. Gandhi invece lo osserva con attenzione. Per la sua resistenza passiva, capace di essere una guerra di posizione, che diventa una guerra di movimento in certi momenti e in altri una guerra sotterranea. Questo è un esempio di azione politica che usa con misura una pluralità di strumenti contro l'oppressione coloniale, dal bocchottaggio allo sciopero alla preparazione clandestina di azioni militari. Gandhi è insomma un modello di rivoluzione passiva ed è questo che interessa Gramsci, che è intento a meditare sul risorgimento e sui suoi esiti. Per Gramsci il risorgimento è stata una rivoluzione passiva. Chiarisco, una rivoluzione è passiva quando è condotta da una minoranza che si trascina dietro alla maggioranza, e attiva quando è condotta dalla maggioranza. Il risorgimento è stata una rivoluzione passiva, condotta dalla borghesia settentrionale che si riconosceva nel programma di Cavour, a fronte del fallimento politico di Mazzini, incapace di portare a compimento una rivoluzione attiva. Se non che la mancata inclusione delle masse nel nuovo Stato unitario ha incamminato l'Italia liberale su un percorso al termine del quale c'era la dittatura. Il Gramsci che si chiede cosa possiamo imparare da Gandhi sta riflettendo su cosa è andato male nel risorgimento, ma anche in filigrana, come potrà essere rovesciata la dittatura fascista che lo ha condannato a morire in carcere. Ma c'è un'altra notazione su Gandhi che merita di essere notata, laddove viene detto che Gandhi, assieme a Tolstoi, anche lui un pensatore pacifista, può far comprendere le origini del cristianesimo e le ragioni del suo sviluppo nell'impero romano. Gramsci ha appreso da Marx, interprete acuto di Darwin, che è l'anatomia dell'essere umano che spiega quella della scimmia e non il contrario, perché mostra nella sua realizzazione le potenzialità che erano implicite. Allo stesso modo c'è un potenziale nei movimenti spirituali cristiani delle origini che viene illustrato oggi dall'azione politica di Tolstoi e Gandhi, il che significa, e dobbiamo tenerlo presente, che la storia non si attua secondo un rigido determinismo e non è orientata a uno scopo, ma presenta diverse possibilità nel suo svolgersi. Il secondo tema che ci servirà per la conclusione è quello del folklore, cui Gramsci dedica a qualche pagina nel quaderno 27. Attenzione, Gramsci si occupa di politica, di filosofia, ma si occupa anche di progresso industriale, di letteratura. Gramsci inizia la sua carriera intellettuale come critico teatrale e per inciso è il primo letterato a scoprire il teatro di Pirandello e quindi non stupisce che si occupi di una cosa da letterati come il folklore, però lo riabilita. Il folklore non è una sorta di preistoria contemporanea e minore che poi superiamo con la cultura, ma è una concezione del mondo e della vita implicita in determinati strati della società, in contrapposizione con le concezioni del mondo ufficiali che si sono successe nello sviluppo storico. E il folklore in stretto rapporto col senso comune. Anche se in modo non elaborato e sistematico, attraverso il folklore i subalterni esprimono la propria concezione del mondo, il che significa riconoscere che ne hanno una e la espongono. Gramsci avanza addirittura l'ipotesi che si debba, nel caso del folklore, parlare di un agglomerato di frammenti di tutte le concezioni del mondo e della vita che si sono succedute nella storia e che si mantengono stratificate. I subordinati dunque esistono e si esprimono. Ma come? In che modo? Gramsci ne scrive nel quaderno 25 che segna una discontinuità rispetto alla precedente riflessione sulla questione meridionale. Nello scritto sul meridione, Gramsci fa alcune innovative e sensate affermazioni che hanno avuto la loro importanza nel pensiero indiano contemporaneo. Affermazioni che possono essere riassunte nella proposta politica di un'alleanza dei contadini del meridione con gli operai delle grandi fabbriche del Nord. Ricordo ancora che Gramsci è un pensatore degli anni 20. Per un verso, secondo Gramsci, non ha senso che i contadini occupino terre incolte o mal coltivate se poi non dispongono di macchinari per lavorarle, di crediti per finanziare il lavoro, di cooperative per far circolare nel mercato i frutti della terra. Tutte cose che richiedono il controllo operaio sull'industria. In altri termini, una rivoluzione o quantomeno una democrazia. Dall'altro lato, la questione meridionale è concepita non come un problema locale o settoriale, ma come una questione di interesse nazionale, anche se localizzata in una determinata area geografica. Questione della quale deve farsi carico, secondo me, la classe operaia che ha a cuore l'interesse generale e non il proprio particolare. Tuttavia, in quello scritto, che è l'ultimo, prima dell'arresto e della detenzione di Gramsci, permane una sorta di pedagogismo nel rapporto fra l'operaio del nord e il contadino del sud che si ribella a latifondo occupando le terre. Come notarono Lanfranco Caminiti e Fiora Pirri Ardizzone, critici severi ma giusti, è come se al contadino che lotta venisse detto che nello sprecare le proprie forze in proteste inadeguate fa la cicala invece di appellarsi alle operose formiche operaie del nord, come recita la famosa favola. Che siano operai o proprietari terrieri sembra sempre che qualcuno debba mangiare in testa i contadini. Come diceva Massimo Troisi, è per questo che l'hanno chiamato a mezzogiorno, per essere certi di poterci mangiare sopra a qualunque ora arrivassero. Nel quaderno 25 invece Gramsci elabora una concezione della società più complessa. Un chiarimento, perché continua a parlare di quaderni? Perché Gramsci negli anni della detenzione ha compilato una serie di quaderni che sono almeno otto abbozzi di libri che avrebbe potuto scrivere ma che non ha mai scritto e che sapeva che non avrebbe potuto scrivere perché sapeva che sarebbe morto in carcere. E quindi noi Gramsci lo leggiamo o attraverso il riordino dei suoi scritti in singoli libri o attraverso la lettura continua dal primo all'ultimo quaderno. Intanto, torniamo a questa concezione complessa della società, accanto alle due classi sociali, la borghesia e il proletariato compaiono i gruppi sociali subalterni. Questa complessità di formazioni sociali costituirà negli anni un prezioso strumento di analisi della società. Chatterie lo userà per interpretare i movimenti contadini in India. Stuart Hall per mettere in luce quella che lui chiama l'incorporazione differenziata di specifiche forme economiche all'interno dei regimi capitalistici. Per capirci, stiamo parlando di un pensatore caraibico, il modo in cui l'industria coloniale sussume al proprio interno le modalità di coltivazione poniamo della canna da zucchero o delle spezie se dai caraibi ci spostiamo nell'oceano indiano. Questa incorporazione ha dimostrato Stuart Hall è sempre stata associata al sorgere di segmentazioni razziste o etniche. Inoltre, il rapporto fra subalterni e dominati non è più concepito come un esercizio di autorità o di forza. Come se lo Stato fosse un'organizzazione esterna che dall'alto impone il proprio dominio. Il potere di un ceto dominante è garantito attraverso l'esercizio di quella che Gramsci chiama egemonia, un concetto inscindibile da quello di subalternità. In parole povere l'egemonia è la capacità di una minoranza di acquisire il consenso della maggioranza attorno alla propria concezione del mondo attraverso una pluralità di strumenti fra i quali ceti intellettuali e qui faccio notare che per intellettuali Gramsci non intende la fascia alta della cultura ma intende il ceto di coloro i quali sono istruiti i quadri tecnici i quadri intermedi se si parla dell'Italia degli anni 20 e 30 non è così diffusa l'istruzione egemonia significa una vera e propria battaglia culturale attraverso la quale una visione del mondo si afferma fino a imporsi come l'unica facendo passare in secondo piano quella dei subalterni è così che la storia dei vincitori si impone sui vinti e i subalterni finiscono per interiorizzare il punto di vista dei dominanti prendiamo ad esempio la narrazione del buon colonizzatore inglese che si fa carico del fardello dell'uomo bianco per sollevare dalla retratezza il povero colonizzato in realtà come dimostrano gli studi statistici quantitativi di Angus Madison all'inizio del 1700 prima che arrivassero i colonizzatori inglesi in Bengale in India l'India era il più ricco paese del mondo a fronte di un prodotto interno lordo globale stimato nell'equivalente odierno di 371 mila milioni di dollari il prodotto lordo interno indiano era di quasi 91 mila milioni quasi un quarto esatto metà di questo prodotto interno lordo era prodotto dal solo Bengala per fare un confronto prendo i dati del 2019 prima che l'economia venisse sconvolta dalla pandemia secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale un quarto del prodotto interno lordo globale oggi è quello degli Stati Uniti per avere un ottavo dobbiamo mettere insieme in uno stato fittizio i tre stati più ricchi d'Europa cioè Germania Gran Bretagna e Francia questa era la potenza economica produttiva del Bengala quindi la concezione dell'indiano come un chiroapatico responsabile della propria miseria in ragione della propria inattività fondamentalmente perché non c'ha voglia di lavorare è una finzione storica che si è affermata con valore di verità come scrive Margaret Atwood che è canadese e quindi conosce bene il colonialismo sia europeo che quello culturale cito c'è la storia poi c'è la storia vera poi c'è la storia di come la storia viene raccontata poi c'è quello che si lascia fuori dalla storia che fa parte anch'esso della storia Dipesh Chakrabarti in quel fondamentale libro che è Provincializzare l'Europa distingue una storia 1 da una storia 2 la storia 1 è il passato che viene posto come propria condizione da parte del capitale che crea che crea l'illusione di uno sviluppo univoco e progressivo della storia come se ci fosse un'unica causa che ha determinato l'attuale effetto la storia 2 invece sono quegli eventi passati contenuti nello sviluppo ma non coerenti con esso e potenzialmente divergenti come sono gli elementi di sviluppo in senso non capitalistico o non britannico o non imperialistico che erano presenti nella società indiana del 700 lo stesso Chakrabarti in uno studio successivo ha fatto notare che i filosofi tedeschi come Schmitt e Heidegger che negli anni 30 iniziano a parlare di immagine del mondo dell'unificazione del globo in un'unica rappresentazione stanno in realtà parlando dell'immagine del mondo europea che con il colonialismo si è imposta in ogni angolo del mondo Edward Said ha coniato per questo il termine orientalismo per designare l'immagine dell'oriente che si creano gli occidentali per dominarlo attenzione i greci creano la distinzione tra oriente e occidente greco e persiano per tenere a distanza l'oriente i colonizzatori moderni creano l'orientalismo non per tenere a distanza ma per impossessarsi dell'oriente fa parte di questa immagine del mondo che si impone sui subordinati l'idea che ci sia un unico modello di sviluppo e che chi non vi partecipa sia in qualche modo fuori dalla storia per quello che ne so è un'idea che risale a David Hume filosofo scozzese del settecento la cui grandezza filosofica non gli impedì di essere un franco razzista nelle sue riflessioni su cito un titolo come civilizzare i rudi e barbari abitanti delle islands cioè gli scozzesi del nord l'intellettuale scozzese delle lowlands della scossa del sud di Edimburgo scrive che la rude cultura degli islander si caratterizza per durare senza divenire i barbari del nord erano popoli che sono nella storia ma non hanno storia questa concezione di popoli senza storia che Hume applica anche agli africani legittimando lo schiavismo lo stesso Hume era azionista di una società che commerciava in schiavi la ritroviamo in Hegel e poi in Heidegger sempre in riferimento alle popolazioni africane ecco quando ci chiediamo come la grande cultura classica tedesca abbia potuto sviluppare al proprio interno i germi della Shoah è a questo romanzo antropologico che dobbiamo far riferimento ma lo stesso discorso può essere svolto in riferimento alla storia d'Italia e infatti lo è stato da parte di alcuni studiosi che sotto il nome collettivo di orizzonti meridiani hanno utilizzato le letture indiane di Gramsci per rileggere la storia della colonizzazione del meridione che ai politici come Massimo D'Azzeglio e Francesco Saverionitti ma anche a un antropologo come Alfredo Niceforo allievo di Cesare Lombroso teorizzatore dell'esistenza di due razze italiane quella del nord e quella maledetta è una citazione del sud e delle isole Niceforo andò a fare delle ricerche proprio nella Sardegna di Gramsci per dimostrare il carattere maledetto e inferiore dei sardi ecco il meridione appare come cito un paradiso abitato da diavoli biologicamente inferiore senza spirito civico e basi morali di fatto questi scrittori di un razzistico romanzo antropologico l'espressione di Napoleone Collaianni elaboravano in nuce quelle categorie è che distinguendo gli esseri umani in razze sarebbero poi passate nel manifesto della razza a disegnare l'inferiorità di ebrei e africani perché anche noi italiani abbiamo una immensa cultura classica e anche noi italiani abbiamo germinato il fascismo e le leggi razziali i subalterni sono quindi coloro a cui viene negata la storia e con essa le parole per narrarla è qui che Gayatri Spivak filosofa bengalese pone una domanda provocatoria can the subaltern speak domanda volutamente ambigua nella lingua inglese perché in inglese to speak sia transitivo che intransitivo e quindi ci si chiede non solo se possa parlare il subalterno ma di cosa possa parlare ma al tempo stesso anche subalterno è un termine ambiguo in inglese perché può essere declinato tanto al maschile quanto al femminile e in realtà Spivak in riferimento ad alcuni casi tipici del bengala si chiede in effetti se la subalterna cioè la donna possa parlare chi è subalterno può prendere parola? è una domanda non manale ok? se torniamo col pensiero ai due marinai indiani che stavano cercando di prendere parola per spiegare che la petroliera stava recidendo le reti da pesca ma in quanto subalterni sono stati interpretati come pirati e poco importa se nello stato indiano del Kerala la pirateria non c'è mai stata neanche nei romanzi di Salgari ma se il subordinato parla può farlo senza rimanere irretito nel linguaggio dominante Spivak fa l'esempio della brava donna bengalese che in sanscrito si scrive sati sati è il femminile di sat se non che sat indica l'essere l'essenza positiva senza altra specificazione al maschio basta essere per essere una figura positiva mentre nel caso femminile sati indica la brava donna cioè colei che accede all'essere soltanto nella misura in cui si conforma all'immagine che di lei ha il maschio per inciso ma non per caso è lo stesso sottinteso che risuona nella locuzione una donna in gamba che abbiamo sentito pronunciare nei giorni scorsi la subalterna scrive Spivak è imprigionata nella formula uomini bianchi buoni salvano la donna scura da uomini cattivi scuri una formula che non nomina la struttura sociale nella quale l'oppressione imperialistica ha impedito la possibilità di una messa in discussione delle strutture patriarcali di casta e anzi le ha incoraggiate perché funzionali al controllo coloniale sulla società fondato sul divide timpera sì che alla donna indiana non viene concessa alternativa fra il patriarcato e l'imperialismo e infatti Spivak risponde provocatoriamente no la subalterna non può parlare anche se dovrebbe è un'affermazione radicale sottolineo che è provocatoria e che l'intento di Spivak sia che le subalterne dovrebbero prendere parola un'affermazione che potrebbe appoggiarsi a un passo di Gramsci per il quale i gruppi subalterni subiscono sempre l'iniziativa dei gruppi dominanti anche quando si ribellano e insorgono non di meno nel folklore abbiamo visto che i subalterni si esprimono e producono una cultura popolare capace di autonomia dal linguaggio mainstream e infatti Gramsci aggiungeva al passo che vi ho appena citato ogni traccia di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subalterni dovrebbe essere di valore inestimabile per lo storico integrale qui ci viene aiuto Naoki Sakai filosofo giapponese con la sua concezione della soggettività come una traslazione fra diversi linguaggi avevamo detto che Gramsci seppure per brevi cenni si occupa di come una certa prassi possa essere adattata a un diverso contesto una certa azione che io faccio in un tempo in un luogo posso attuarla in un altro tempo in un altro luogo questo per Gramsci è proprio un problema di traduzione tenendo presente che traduzione significa tematizzare che cosa si perde che cosa si modifica quando si passa da una lingua all'altra Gramsci in carcere ha avuto anche tempo di chiedersi che cosa cambia nel momento in cui Pirandello autorizza una compagnia teatrale siciliana a tradurre le sue opere teatrali scritte in italiano in dialetto siciliano ecco con il linguaggio di Sakai c'è una tendenza unificatrice che si esprime nelle forme dell'egemonia che dà luogo a quello che lui chiama un indirizzo omolinguale indirizzo nel quale subalterni e subalterni non possono parlare ma è altrettanto vero che all'interno di questa tendenza si danno molteplici linguaggi così come all'interno della soggettività che mostriamo come una maschera si agita una pluralità di soggettività parziali che attraversiamo di continuo sicché ogni comunità è in qualche modo una comunità di stranieri che si esprimono traducendosi in una pluralità di linguaggi quello che Sakai chiama indirizzo eterolinguale e qui vi confesso a me rimane il rammarico l'unica volta che ho potuto ascoltare dal vivo a Bologna Naoki Sakai di non avergli chiesto se era conoscenza di analoghi studi sul monolinguismo e plurilinguismo che un grande linguista e critico italiano Contini ha fatto su Dante ebbene in Gramsci emerge questo lo osserva Stuart Hall una concezione complessa frammentare e contraddittoria della coscienza la pluralità delle identità che formano il soggetto la natura plurale delle coscienze sono una conseguenza del rapporto tra il sé e i discorsi ideologici che si dispiegano nel campo culturale di una società poiché la società è complessa siamo noi stessi complessi e nel linguaggio che noi parliamo si agita una complessità dei linguaggi e qui vi faccio un esempio e lo faccio volutamente pop pensate a linguaggi musicali che storicamente si sono forgiati nelle discoteche black e gay di New York e che hanno dato vita a generi musicali come la disco music e il rap linguaggi nei quali si esprimevano quelle singolarità altrimenti impossibilitate a prendere parola dentro canzoni di successo apparentemente solo commerciali come Dancing in the Street delle Vandellas I'm Coming Out di Diana Ross I Will Survive di Gloria Gaynor At Last Time Free degli Chic nel quale le parole di Martin Luther King si incontrano con il radicale Neil Rogers prendono parola soggettività e differenze potremmo dire soggettività diverse da loro che di certo non stanno né zitte né buone e qui se è consentito vuoi riconcludere con una critica allo stesso Gramsci ripensare il suo giudizio troppo severo nei confronti di Francesco D'Assisi sempre ricordando che è l'anatomia dell'uomo che illustra quella della scimmia oggi il povero non è un viandante che si allontana dalla società come nel 200 perché non c'è alcun luogo esterno in cui potersene andare dovunque il povero sia è sempre nel cuore della società e al tempo stesso con una sensibilità moderna noi oggi leggiamo una pluralità di storie e di linguaggi nella biografia per immagini di Francesco che si dipana negli affreschi giotteschi di Assisi e qui penso ovviamente allo straordinario imprescindibile lavoro iconografico e storiografico di Chiara Frugoni e quindi oggi noi guardando alla moderna figura del povero leggiamo nella scelta fatta da Francesco di adottare la condizione comune della povertà della moltitudine per denunciarne le condizioni leggiamo la potenza di una vita nella gioia del comune con tutte le creature e tutta la natura gli animali sorella luna fratello sole gli uccelli nei campi gli sfruttati i poveri tutti insieme contro la volontà e la corruzione del potere una moltitudine senza frontiere di subalterne e subalterni che parla tutti i linguaggi del mondo in una rinnovata alleanza con l'intero creato un mondo se esistesse nel quale varrebbe la pena di vivere bene allora grazie Gironomo per questa esposizione ricca di informazioni ricca di riferimenti e chiedo naturalmente se c'è qualcuno che vuol fare una domanda non necessariamente solo su quello che ha detto Gironomo ma anche sulla figura di Gramsci visto che a Gramsci abbiamo dedicato ben due interventi qualcuno se non c'è nessuno ti faccio una domanda io Gironomo allora ci chiedevamo lunedì con Roberto Dall'Olio e questa domanda la giro anche a te come l'ho fatta lui come mai Gramsci nonostante la sua grandezza è stato probabilmente dimenticato oppure tanto diciamo se tu sei d'accordo su questa su questa ipotesi e secondo te se è vero perché diciamo Gramsci non è così più studiato non è così più presente diciamo come invece nel secolo scorso che Gramsci da un certo momento in poi sia passato in secondo piano è dire in dubbio basta vedere anche la ricchezza dei primi convegni se ne svolgeva uno ogni dieci anni di studi gramsciani che è andata gradualmente declinando e al tempo stesso appunto la crescita di contributi in altre parti del mondo dovute al fatto che le opere di Gramsci sono state tradotte in inglese e non immediatamente io credo che il motivo sia da un lato perché dei tanti aspetti di Gramsci è prevalso alla fine quello politico perché Gramsci era pur sempre un dirigente politico e quindi il suo essere considerato come un pensatore politico ha seguito le sorti della parte politica che era poi il partito comunista che peraltro ne ha utilizzato soltanto un aspetto particolare al tempo stesso c'è stato un momento in cui in Italia c'è stato una fioritura molto viva della filosofia che ha preso le distanze dall'idealismo e secondo me in modo erroneo però è successo Gramsci è stato interpretato in parte come un idealista per cui abbiamo avuto una generazione di filosofi tra gli anni 60 e gli anni 70 in Italia che non si confrontavano con Gramsci tramontata anche questa ondata evidentemente ci sono allievi ai quali i propri maestri non hanno insegnato a leggere Gramsci e poi è successo questa ondata di ritorno che serve ripeto a mostrare una pluralità di aspetti io credo che una delle ragioni sia anche il fatto che oggi il panorama attuale della filosofia italiana è veramente molto povero faccio un esempio Gramsci ha delle intuizioni nel folclore che ovviamente non può approfondire perché il folclore lo si approfondisce sul campo senza essere un lettore di Gramsci un gigante dell'etnologia come Ernesto De Martino ha svolto davvero questo programma ha dimostrato che c'è una cultura una visione del mondo nelle danze nelle musiche nella taranta ora nel 19 sono stati pubblicati le carte inedite di De Martino che dovevano costituire il suo libro conclusivo che De Martino non scrisse perché morì prematuramente ed era un libro che doveva dimostrare che De Martino aveva per tutta la propria vita scritto un unico libro e un libro sarebbe stato un libro di un'ampiezza filosofica strepitosa De Martino si confrontava da pari a pari con tutto l'esistenzialismo europeo da quello filosofico a quello letterario abbiamo gli appunti e le schede di lettura ebbene di quelle 500 pagine in frammenti ne hanno fatto un immediato uso critico utilissimo due grandi critici letterari come Bologna e Cataldi non mi risulta alcun filosofo che abbia recensito commentato annotato l'esistenza di questo libro che di fatto è del 19 come se fosse un'opera inedita ecco mentre ripeto i letterati immediatamente lo stanno discutendo io ho assistito a un seminario di Cataldi in cui Cataldi utilizzava De Martino per interpretare la strada di Cormac McCarthy ha immediatamente messo all'opera e quel libro dimostra che De Martino è stato anche un grande filosofo lo scopriamo adesso ma non abbiamo evidentemente filosofi italiani in grado di interessarsi è una cosa con cui dobbiamo fare i conti abbiamo momenti culturali grandissimi in Italia Chiara Frugoni è tuttora viva e attiva ed è un gigante della cultura purtroppo non abbiamo una filosofia contemporanea che brilla per originalità e però è vero che c'è una minoranza di lettori che ha colto questi contributi li ha tradotti in Italia li ha fatti entrare li ha discussi che discute con questo mondo che sembra lontano ma poi non lo è ti faccio un'ultima domanda Girolamo perché ormai ci stiamo avvicinando alla conclusione dell'incontro qualcosa di molto legato invece a noi e nel mondo della scuola chiaramente è una domanda quasi retorica cioè si sa già la risposta vale ancora la pena di studiare Gramsci è ancora importante in un qualche modo porre l'attenzione dei nostri studenti nel 2021 su Gramsci evidentemente sì perché viviamo in un mondo globalizzato di enorme complessità e quella complessità che Gramsci scopriva che scompaginava le categorie rigide del marxismo di cui lui era comunque un esponente è estremamente attuale ci dà delle chiavi di lettura del mondo indipendentemente da come poi vogliamo leggerlo ci dà delle lenti che non a caso sono state assunte immediatamente dagli studiosi indiani perché l'innia è un paese che nel giro di pochi decenni è balzato da una condizione di arretratezza alla globalizzazione e quindi nel quale le stratificazioni sono molto più ampie nel quale le diverse epoche coesistono c'è bisogno di strumenti complessi e li hanno trovati e quindi anche soltanto per assumere la cassetta degli attrezzi di Gramsci poi ciascuno ne fa quel che vuole io credo che Gramsci sia tuttora un autore che vale la pena di essere di essere studiato l'opera che consiglieresti assolutamente da leggere i nostri studenti ah non saprei dirti quale i due libri più interessanti sono forse quello sul risorgimento e quello di critica alla filosofia di Benedetto Croce però io ho volutamente citato i quaderni perché molte delle cose che ho citato sono brevi capitoli che però hanno sui quali oggi si scrivono libri per cui forse varrebbe la pena di leggere due o tre libri quello sul risorgimento ma anche quello su Machiavelli no quello su Machiavelli forse in realtà più che su Machiavelli e sulla politica contemporanea anche gli scritti letterari di Gramsci ha delle intuizioni straordinarie ripeto è stato il primo a recensire Pirandello quando lui era un ragazzo cosa non da poco e ha continuato a interessarsi di Pirandello anche quando lui era in carcere e Pirandello sosteneva la parte politica che l'aveva messo in carcere quindi credo che alla fine si debba arrivare a leggerlo magari a sbalzi ma a leggerlo tutto per intero dai quaderni quindi d'altronde non c'è alcuna fretta nel leggerlo si può leggere un libro all'anno ogni due o tre anni e dedicarsi del tempo va bene allora grazie a Gironomo per i consigli anche di lettura grazie per la sua esposizione grazie a voi che avete partecipato ci fermiamo un attimo e poi ci diamo appuntamento tra qualche minuto per la conferenza del professor Ricci grazie mille a dopo bene allora direi che ci siamo ultimo intervento di queste tre giornate della filosofia un piacere per me come è stato un piacere presentare i miei colleghi in precedenza presentare anche Roberto Ricci che ci presenta un argomento sicuramente molto interessante che riguarda anche le interconnessioni tra la fisica e la filosofia se ho capito bene Roberto buon ascolto a tutti mi sentite? si sente bene? allora buongiorno a tutti grazie di essere presenti a questo incontro conclusivo delle giornate della filosofia del liceo Ariosto abbiamo voluto organizzandole che queste giornate fossero il più possibile rappresentative della varietà di temi con cui non solo la filosofia si è sempre confrontata ma continua a confrontarsi anche oggi e infatti il primo incontro quello con Giovanni Merlo riguardava questioni di una zona che possiamo considerare al confine tra la metafisica e la logica poi ci sono stati interventi di filosofia della politica che hanno riguardato in particolare la figura di Antonio Gramsci ieri c'è stato un dibattito sui temi dell'eutanasia del suicidio assistito dell'omicidio del consenziente cioè temi della bioetica che interessano la filosofia cosiddetta morale ecco oggi tocca alla filosofia della scienza un attimo solo che facciamo partire la presentazione ecco qua allora la prima cosa che ci si può chiedere riguardo alla filosofia della scienza è che diritto abbiano i filosofi di intervenire è legittimo che la filosofia faccia della scienza un proprio oggetto di interesse e di riflessione molti scienziati pensano che non lo sia io qui vi ho riportato proprio per per cominciare l'esposizione di oggi un giudizio molto tranciante di Stephen Hawking Stephen Hawking è uno degli scienziati più famosi anche a livello dell'opinione pubblica di massa è morto nel 2018 diciamo che anche per la sua vicenda esistenziale particolare a poco più di 20 anni gli è stata diagnosticata una malattia invalidante che lo ha ridotto sulla sedia a rotelle si è fatto conoscere al punto che sulla sua figura sono state realizzate anche delle opere cinematografiche ma in ogni caso Hawking è stato un grandissimo scienziato un un pioniere nello studio dei buchi neri e Hawking in uno scritto del 2012 dice come vedete che la filosofia è morta che la filosofia non è rimasta al passo con gli sviluppi moderni della scienza in particolare proprio della fisica e che gli scienziati sono diventati i tedofori cioè i portatori della torcia della fiaccola della scoperta in quella che è la nostra ricerca della conoscenza quindi per Hawking non c'è nessun bisogno della filosofia gli scienziati possono fare da soli e Hawking non è un isolato da questo punto di vista si potrebbero moltiplicare a volontà i giudizi dello stesso tipo ci sono addirittura scienziati che non hanno nessuna remora a dichiarare quasi con vanto che per loro la parola filosofo è un insulto e che la filosofia sarebbe una perdita di tempo per fortuna non tutti la pensano così Albert Einstein che possiamo considerare tranquillamente il più grande scienziato del ventesimo secolo ad esempio la pensava molto diversamente vi ho riportato qui un un giudizio che Albert Einstein scrive nella prefazione al libro di uno storico delle idee Maxi Hammer uno storico israeliano quest'opera si intitola appunto storia del concetto di spazio e nella prefazione come vedete Einstein dice che lo scienziato fa uso di un gran numero di concetti e di rado o mai è consapevole del loro carattere problematico ecco allora dove si apre lo spazio per la filosofia lo scienziato usa strumenti concettuali del pensiero come qualcosa di ovvio come qualcosa di immutabilmente dato che ha un valore oggettivo di verità che non si deve mettere in dubbio e d'altra parte come potrebbe fare altrimenti come sarebbe possibile dice Einstein la scalata di una montagna se l'uso degli strumenti dovesse essere confermato passo per passo eppure nell'interesse della scienza è necessario impegnarsi ripetutamente nella critica di questi concetti fondamentali in modo da non esserne dominati inconsciamente se non lo può fare lo scienziato chi lo deve fare questo lavoro no? lo scienziato abbiamo detto è come l'alpinista o meglio ha detto Einstein è come l'alpinista che se perdesse la fiducia negli strumenti di cui dispone rimarrebbe a metà della parete durante la scalata e non potrebbe più né salire né scendere lo scienziato è tenuto in qualche modo a confidare negli strumenti di cui dispone allora ecco che deve entrare in campo il filosofo no? il compito del filosofo è proprio quello di analizzare di mettere in discussione di definire i concetti fondamentali di cui gli scienziati si servono abitualmente in modo ingenuo questo Hawking sembra non avere capito che la scienza non è fatta solo di equazioni non è fatta solo di esperimenti ma è fatta di interpretazioni che vengono elaborate a partire da quei dati tecnici e queste elaborazioni queste interpretazioni fanno entrare in gioco concetti che spesso hanno implicazioni metafisiche delle quali lo scienziato non si avvede qui vi ho riportato un'altra citazione che fa il paio con quella di Einstein ed è di un grandissimo scienziato un grandissimo studioso di meccanica quantistica John Bell il quale in questo scritto breve intitolato contro la misurazione dice ecco alcune parole che sono poi naturalmente alcuni concetti che quantunque legittimi e necessari nell'applicazione non trovano posto in una formulazione che abbia la pretesa di precisione fisica e quali sono queste parole quali sono questi concetti che cita Bell sistema apparato ambiente microscopico e macroscopico reversibile e irreversibile osservabile informazione misurazione prendiamo ad esempio la coppia molto brevemente la coppia microscopico macroscopico una cosa che si sente dire continuamente è che la fisica classica cioè la fisica newtoniana galileiana newtoniana è la descrizione adeguata del mondo macroscopico di quello che accade al livello macroscopico e che la meccanica quantistica invece è lo strumento di cui abbiamo bisogno per scendere nella nostra descrizione della realtà al livello microscopico va benissimo no? è diciamo una presentazione semplice facilmente intuitiva di qualcosa che però non è affatto chiaro perché dove sta il confine tra il microscopico e il macroscopico chi lo stabilisce questo confine i filosofi hanno avuto a che fare fin dall'antichità con questioni di questo tipo il famoso argomento del sorite è un argomento che avevano elaborato già i filosofi greci quando è che un individuo diventa calvo è chiaro che se non ha neanche un capello in testa è calvo e se ne ha uno sarà ancora calvo e se ne ha due e se ne ha dieci e se ne ha cento e se ne ha mille qual è il numero di capelli a partire dal quale si smette di essere calvi e si diventa irsuti può sembrare una cosa molto lontana dalla fisica in particolare dalla fisica quantistica ma in realtà non lo è affatto in meccanica quantistica i sistemi sono descritti dalla cosiddetta funzione d'onda un oggetto diciamo matematico che descrive l'andamento del sistema in particolare se ci riferiamo ad una particella tanto per fare un esempio indica quali probabilità ci siano che questa particella possa essere trovata in uno o in un altro punto del nostro sistema quando è che si passa dalla probabilità alla constatazione di qualcosa di osservabile quando si effettua una misurazione allora tecnicamente si dice che quando la misurazione viene eseguita la funzione d'onda collassa collassa in uno stato che è quello osservato e questo accade perché interviene quell'elemento macroscopico che è lo strumento di misurazione ma perché uno strumento di misurazione è qualcosa di macroscopico che fa collassare la funzione d'onda se noi abbiamo un atomo che interagisce con un altro atomo la funzione d'onda non collassa se abbiamo un atomo che interagisce con due la funzione d'onda non collassa se abbiamo un atomo che interagisce con tre con cinque con mille con cento con un milione di atomi la funzione d'onda non collassa E' lo stesso discorso del calvo. Quando è che qualcosa diventa macroscopico e produce l'effetto di determinare il collasso della funzione d'onda? La meccanica quantistica non ce lo dice. I fisici quantistici per lo più non si pongono questo problema, ignorano questa difficoltà. Spesso i fisici rispondono a chi solleva queste questioni, shut up and calculate, taci e fai i conti, come se questo fosse il compito del fisico, cioè dello scienziato. E in una certa misura lo è. Ma allora alle difficoltà irrisolte chi deve rispondere? Ovviamente il filosofo. Il filosofo che ha questi problemi è sensibile e che su questi problemi ha qualcosa da dire. Concludo con questa introduzione, diciamo, con la citazione di un filosofo. Un filosofo, ahimè, tra i più misconosciuti. Enzo Melandri. Vorrei che fosse anche un omaggio questa citazione perché posso gloriarmi, in un certo senso, della fortuna di essere stato suo allievo. Enzo Melandri ha scritto nel 1968 questo libro intitolato La linea e il circolo, studio logico-filosofico sull'analogia, che è stato definito da Giorgio Agamben un capolavoro filosofico del Novecento. Un testo che sta alla pari di opere come l'archeologia del sapere di Michel Foucault, ad esempio. Uscita l'anno successivo, uscita nel 69. Libri che hanno segnato la filosofia dello scorso secolo. L'opera di Melandri invece è rimasta in ombra perché in Italia non è stata valorizzata. Ed è un peccato, anche se negli ultimi anni è in corso una riscoperta del pensiero di quest'autore. Ad ogni modo Melandri scrive che, essendo la filosofia implicita in ogni attività umana non automatica, ma invece riflessiva e cosciente, molto spesso le innovazioni più importanti provengono da quelle cognizioni non filosofiche che, entrando in conflitto con altre o fra di loro, subiscono una crisi riflessiva che ne distrugge l'ovvietà pragmatica e le rende operanti a livello filosofico. Questo naturalmente vale anche per le scienze. Che le scienze sorgano distaccandosi dalla filosofia è vero, ma è solamente una mezza verità. L'altra metà di questa mezza verità è che la filosofia sorge dalle crisi delle scienze, alimentandosi di quanto viene in esse di non scientifico e le crisi di fondazione rivelano periodicamente che in ogni scienza c'è parecchia metafisica. E a portare in luce questa metafisica provvedono appunto i filosofi. Melandria, ad esempio, sosteneva che le scienze fossero nati addirittura nel Neolitico. Naturalmente nella forma puramente pragmatica delle tecniche. Ma proprio perché tutto questo fa sui problemi, allora si è sviluppata la filosofia come riflessione, come tentativo di presa di coscienza, di che cosa la scienza è e di quali sono i suoi limiti. Quindi è cominciato un dialogo che non si è più interrotto, un dialogo che ha visto le scienze stimolare la filosofia e la filosofia stimolare le scienze in un gioco di influenze reciproche, che alla fine ha giovato a entrambe e che quindi è bene continui. Allora arriviamo al tema del nostro incontro di oggi, la crisi della ricerca teorica in fisica dei fondamenti. Allora, sottolineerei l'espressione ricerca teorica, qui non è in gioco la ricerca sperimentale, ma quella puramente teorica. E non in questo o quell'altro settore della fisica, che sono tanti, ma nel settore specifico della fisica dei fondamenti. C'è, vi sarà capitato di sentirla nominare, la fisica dei sistemi complessi, la fisica della materia condensata o dello stato solido, c'è ovviamente la fisica astronomica o astrofisica. Chi più ne ha più ne metta. I fisici fanno tante cose diverse. Tra queste c'è la fisica dei fondamenti, o fisica delle particelle elementari, o fisica delle alte energie. Ed è quella che ci interessa. Anche perché è in questa che si sono realizzate, nel Novecento, che possiamo considerare il secolo della fisica, le più grandi rivoluzioni. A cominciare dalla rivoluzione einsteiniana. Che si è attuata in due atti. Prima con la pubblicazione della teoria della relatività ristretto speciale, nel 1905. E poi con la pubblicazione della teoria della relatività generale, nel 1915. Quasi contestualmente si compiva l'altra rivoluzione. La rivoluzione cosiddetta dei quanti. A dare inizio a questa, è stato Max Planck, nel 1900. Con quella legge che viene chiamata, di solito, spettro di emissione del corpo nero. Cosa ha fatto Planck? Ha studiato in che modo viene, da parte di un corpo, emessa radiazione luminosa. E ha scoperto che questa radiazione non viene emessa in modo continuo, ma viene emessa in modo discontinuo. Cioè sono pacchetti di energia, chiamati appunto quanti, quelli che i corpi emettono. Planck in realtà ha fatto questa scoperta in un modo un po' casuale, nel senso che dal suo punto di vista si trattava più che altro di un espediente di calcolo. Assumere i valori dell'energia emessa come discontinui, come suddivisi in pacchetti. A capire l'importanza di questa intuizione di Planck sarebbe stato, pochi anni più tardi, ancora una volta Albert Einstein. Che per questo ha vinto il premio Nobel. Paradossalmente Albert Einstein non ha vinto il premio Nobel per la teoria della relatività. Né per quella ristretta, né per quella generale. Ma per i suoi scritti, il suo scritto del 1905, proprio sui quanti di luce, i cosiddetti fotoni. Quindi è cominciata a partire, diciamo, dal 1900, a partire poi dall'intervento di Einstein, una storia che ha visto protagonisti tanti grandi fisici. Se la rivoluzione relativistica ha un padre, quella dei quanti invece ne ha molti. da Planck ad Einstein, potremmo citare poi naturalmente Werner Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, e proseguendo Paul Dirac, Erwin Schrödinger naturalmente, che ha definito l'equazione fondamentale della meccanica quantistica. E così via. Diciamo che tra il 1925 e il 1926 la meccanica quantistica viene a definirsi come una teoria tutto sommato completa, no? Almeno dal punto di vista formale. Cos'è il paradosso del rabbino? In che senso la conoscenza che abbiamo del mondo fisico deve essere riconosciuta come una conoscenza problematica? Quella del rabbino è una storiella molto semplice, no? Abbiamo due uomini che sono in lite tra loro e che per arbitrare questa lite decidono di rivolgersi ad un vecchio rabbino, persona notoriamente saggia. Quindi si recano a casa sua e il primo di questi due litiganti spiega la situazione dal suo punto di vista naturalmente. Il rabbino lo ascolta e gli dice hai ragione. L'altro non ci sta, chiede la parola, no? Ed ha la sua versione dei fatti. Ancora una volta il rabbino lo ascolta con attenzione e poi conclude hai ragione. La moglie del rabbino, che si trovava nella stanza a fianco, non riesce a questo punto a tacere e interviene dicendo ma non è possibile che abbiano ragione tutti e due. E il rabbino le risponde hai ragione anche tu. Ecco, questa è un po' la situazione in cui ci troviamo. Perché abbiamo, da un lato, la relatività generale, che funziona incredibilmente bene e che ha ottenuto tutta una serie di conferme sperimentali, ultima delle quali l'osservazione delle onde gravitazionali, che risale a pochissimi anni fa. Dall'altro abbiamo la meccanica quantistica, che funziona altrettanto bene. Gli smartphone che tutti avete in tasca in questo momento funzionano grazie alla meccanica quantistica. Quello che noi sappiamo sulle proprietà chimiche, dei metalli, degli elementi in generale della tavola piegiodica, lo sappiamo grazie alla meccanica quantistica. Eppure, queste due teorie fisiche non possono essere entrambe corrette. Almeno non possono esserlo nella loro formulazione attuale. Perché si contraddicono. Si contraddicono reciprocamente. Sono come i litiganti del nostro paradosso di Agabbino. Da un certo punto di vista hanno ragione entrambi, ma non possono avere ragione entrambi. E' chiaro che questa è una situazione scomoda. E' una situazione difficile. Da cui si sta cercando, e non da oggi, si sta cercando ormai da molto tempo di uscire, con la cosiddetta gravità quantistica. Cioè cercando di elaborare una teoria che riformulando, almeno in parte, o la relatività generale, o la meccanica quantistica, riesca a trovare un accordo. Finora non si è cavato un ragno dal buco, nel senso che le proposte di teorie di gravità quantistica continuano ad essere molto numerose e non hanno nessun tipo di conferma spiegamentale. Cioè siamo in presenza di pure lucubrazioni, di speculazioni che non hanno finora potuto avere alcun riscontro. Tra le teorie di gravità quantistica che sono state più accreditate, c'è la teoria delle stringhe, di cui ci occuperemo brevemente più avanti. Ma c'è anche la gravità quantistica loop, su cui è impegnato forse il nostro più famoso fisico contemporaneo, cioè Carlo Rovelli. C'è la teoria dei twistor, proposta dal premio Nobel Roger Penrose, c'è la geometria commutativa, ma insomma c'è tutta una serie estremamente ampia di proposte. Penrose tra l'altro con una citazione che qui vi ho riportato, ma che a dire la verità a questo punto non starei neanche a leggere, sostiene che non sia neanche la strada giusta quella di cercare una gravità quantistica, nel senso che ci sarebbe bisogno di qualcosa di completamente nuovo. Ad ogni modo, quello che ci interessa al momento è prendere atto del fatto che nella fisica dei fondamenti si è imposta un'impostazione, cioè prevalsa un'impostazione di tipo riduzionistico, quello che possiamo chiamare una visione della natura a scatole cinesi. L'idea è che la natura sia qualcosa di molto grande che può essere riportato a degli elementi costitutivi più piccoli, i quali a loro volta possono essere riportati ad altri elementi costitutivi ancora più piccoli e così via. Fino a che punto? Fino al punto di arrivare a degli elementi fondamentali, che non sono ulteriormente riducibili ad altro e che quindi sono ciò da cui partire per spiegare tutto il resto. Naturalmente, che cosa sia fondamentale e che cosa non lo sia dipende dalle conoscenze che abbiamo. Cioè, quello che è fondamentale oggi potrebbe rivelarsi non più fondamentale domani se acquisissimo nuove conoscenze. Quello che non è fondamentale viene chiamato emergente. Quindi, diciamo, quello che oggi è fondamentale domani potrebbe essere emergente. In realtà, sullo sfondo di questa questione c'è un altro problema che è quello di tutti quei fenomeni di carattere fisico che presentano una natura di carattere caotico e che non sembrano spiegabili sulla base di questo riduzionismo. La fisica che citavo prima dei sistemi complessi, ad esempio, non ha modo di procedere sulla base del riduzionismo. perché lì è vero che l'intero non è fatto dalla somma delle parti. Ma questa è una questione su cui al momento direi che non vale la pena di soffermarci. Invece, dobbiamo entrare molto brevemente ad illustrare quelli che sono considerati attualmente i fondamenti della fisica e cioè il cosiddetto modello standard delle particelle elementari e delle integrazioni fondamentali. Si tratta di una teoria che deriva dalla QFT, cioè dalla teoria quantistica dei campi e che è stata ottenuta combinando in una sintesi unitaria l'elettrodinamica quantistica, la cromodinamica quantistica e la teoria del decadimento radioattivo. Ognuna di queste tre teorie di campo fa riferimento ad una delle integrazioni o forze fondamentali. La cosiddetta integrazione elettromagnetica per quanto riguarda l'elettrodinamica, la integrazione nucleare forte per quanto riguarda la cromodinamica e l'integrazione nucleare debole per quanto riguarda il decadimento radioattivo. C'è una quarta forza fondamentale cosiddetta forza anche se in realtà il termine non è molto indicato comunque forza fondamentale della natura che è la forza gravitazionale naturalmente la quale però nel modello standard non è contemplata e questo è sicuramente un limite del modello standard ad ogni modo dal punto di vista del formalismo matematico questo modello standard andrebbe definito come una teoria di Young Mills cioè una teoria di gauge non abeliana non abeliana vuol dire non commutativa ma soprattutto teoria di gauge vuol dire teoria all'interno della quale valgono alcune particolari simmetrie che si chiamano simmetrie di gauge cioè simmetrie locali ora cos'è una simmetria molto semplicemente un'invarianza noi possiamo dire che all'interno di un sistema fisico vale una simmetria quando quel sistema ammette delle trasformazioni che lasciano invariata la grangiana del sistema cioè la funzione che descrive la dinamica del sistema nella generalità o comunque nel maggior numero di sistemi fisici questo accade con le simmetrie cosiddette globali cioè che valgono in ogni parte del sistema nel caso delle teorie di gauge invece questo vale per simmetrie locali quindi trasformazioni che pur avvenendo in una parte del sistema non alterano però la parte restante la teoria matematica dei gruppi si applica alle teorie di gauge e nel caso del modello standard l'insieme dei gruppi che lo caratterizzano è appunto quello riportato qui abbiamo il gruppo SU3 per l'integrazione nucleare forte il gruppo SU2 per quella nucleare debole e infine il gruppo U1 per quanto riguarda l'integrazione elettromagnetica il modello standard è coerente con la relatività ristretta nel senso che ammette anche le simmetrie della relatività ristretta come ad esempio la covarianza generale cioè il fatto che le leggi fisiche rimangano le stesse in diversi sistemi di riferimento indipendentemente dal fatto che questi siano in movimento oppure no ma vale per tutte le simmetrie della relatività generale scusate ristretta il modello standard è una teoria dotata di libertà sintotica cos'è la libertà sintotica è la proprietà per cui un'interazione si riduce con il ridursi della distanza tra gli elementi che interagiscono nel nostro caso le particelle del modello standard quando la distanza tende a ridursi a zero anche l'intensità dell'interazione tende a ridursi a zero questo però non è vero per l'integrazione elettromagnetica quindi in effetti il modello standard è solo parzialmente asintoticamente libero è rinormalizzabile allora cosa si intende per rinormalizzazione c'è un problema che affligge le teorie quantistiche di campo e del problema degli infiniti questo vuol dire che quando si vanno a fare i calcoli cioè a cercare i valori delle equazioni per questo tipo di teorie si trovano dei valori insensati insensati appunto perché infinitamente grandi questi valori non corrispondono ovviamente a quello che si osserva sperimentalmente perché le osservazioni sperimentali danno invece delle misure finite allora il problema è quello di eliminare questi infiniti sono state messe a punto delle strategie di calcolo come ad esempio il metodo delle perturbazioni che permettono di ottenere questo risultato però non tutte le teorie sono rinormalizzabili fortunatamente il modello standard lo è è chiaro che la rinormalizzazione è una sorta di trucchetto è un espediente che non può lasciare soddisfatti i fisici tant'è vero che ad esempio Dirac era molto era molto critico su questo diceva che in matematica è sensato ignorare una proprietà una quantità enormemente piccola ma non una quantità enormemente grande semplicemente perché non vorremmo averla ad ogni modo le tecniche della rinormalizzazione funzionano e continuano ad essere utilizzate quello che vedete è lo schema diciamo in cui si può riassumere il modello standard quante sono le particelle cosiddette elementari sono in tutto 25 12 di queste che si collocano alla sinistra dello schema sono fermioni le altre 13 sono bosoni che differenza c'è tra i fermioni bosoni i fermioni sono particelle che obbediscono alla cosiddetta statistica o distribuzione di fermi di racca si tratta di quelle particelle per cui vale il principio di esclusione di pauli cioè sono particelle che non possono assolutamente mai trovarsi nello stesso stato quantico due particelle diverse non possono trovarsi nello stesso stato quantico contemporaneamente questo vuol dire che ad esempio due elettroni non possono occupare lo stesso orbitale a meno che non differiscano che so per lo spin ecco che è un numero quantico e quindi differenzia lo stato di questi due elettroni nonostante si trovino sullo stesso orbitale questo accade per dire nell'atomo di elio che è l'atomo più semplice perché appunto ha soltanto due elettroni ma se noi consideriamo ad esempio un atomo di litio che di elettroni ne ha tre ecco che automaticamente il terzo elettrone non potrà più trovarsi sull'orbitale su cui si trovano gli altri due dovrà trovarsi necessariamente su un orbitale diverso perché lo spino è positivo e negativo e quindi non ci sono più di due possibilità di differire dal punto di vista dello spin i bosoni invece sono particelle che obbediscono alla cosiddetta statistica o distribuzione di Bose e Einstein e per i quali il principio di esclusione di Paoli che tra l'altro ha fruttato a Paoli il premio Nobel non vale i bosoni possono benissimo affollarsi tutti quanti nello stesso stato e anzi di norma lo fanno quindi sono proprio due famiglie di particelle che presentano una differenza sostanziale quali sono i fermioni sono i sei quark e i sei leptoni i fisici sono molto fantasiosi nell'utilizzo dei nomi il nome quark in particolare è stato introdotto da un fisico americano che si chiama Murray Gelman si chiamava Murray Gelman e che lo ha tratto dal romanzo sperimentale di James Joyce Finnegan's Wake in questo romanzo c'è un passo dove appunto si parla di quark che sarebbe la crasi tra la crasi fra le parole question e mark le parole che indicano il punto di domanda in inglese per cui chi pronuncia quark o quarks non pronuncia correttamente allora i quark sono come vedete sei up down charm strange top e bottom poi abbiamo i sei leptoni che sono l'elettrone il muone il tauone e i rispettivi neutrini quindi neutrino elettronico neutrino muonico neutrino tauonico questi dodici fermioni sono suddivisi verticalmente in tre generazioni o famiglie dovete tenere presente che tutta la materia del potremmo dire dell'universo visibile quindi tutta la materia che noi conosciamo è costituita dai dai fermioni della prima famiglia della prima generazione e questa è una cosa abbastanza inspiegabile cioè viene da chiedersi perché una tale sovrabbondanza no? perché esistono anche i quark i leptoni della seconda e della terza generazione se ciò che producono sono semplicemente delle particelle che poi immediatamente decadono sembra che ci sia stato uno spreco di risorse che ci sia stata una sovrabbondanza di elementi impiegati rispetto a quello che era strettamente necessario ad ogni modo ripeto la materia che noi conosciamo è formata di quark up and down di elettroni e di neutrini elettronici un protone ad esempio è formato da due quark up e da un quark down i quark up e quelli down differiscono per la carica per la carica elettrica che nel primo caso ha valore due terzi nel secondo caso ha valore meno un terzo e questo è tipico dei fermioni cioè avere una carica elettrica frazionaria allora se sommate due quark up due terzi più due terzi trovate quattro terzi meno un terzo del quark down tre terzi cioè uno che è esattamente la carica elettrica del protone unitaria allo stesso modo se unite in una tripletta si chiamano così due quark down e un quark up si ottiene meno un terzo meno un terzo meno due terzi più due terzi zero il neutrone che come dice la parola stessa è elettricamente neutro questi queste particelle formate dall'unione e dall'unione dei quark vengono anche chiamate in generale adroni o nel caso specifico delle triplette vengono chiamati barioni ma insomma le parole sono tante Enrico Fermi diceva se riuscissi a ricordarmi il nome di tutte le particelle sarei un botanico non sarei un fisico ad ogni modo quella che tiene legati tra di loro i quark in queste triplette è l'interazione nucleare forte che avviene attraverso lo scambio di particelle bosoniche che sono nel caso specifico i gluoni i gluoni sono otto il nome naturalmente viene dalla parola inglese glue che significa colla ecco lo scambio di gluoni tra i quark è ciò che tiene appunto i quark uniti tra di loro e che permette a questi quark di formare quelle particelle che poi stanno unite nel nucleo nel nucleo dell'atomo il fotone invece è il bosone mediatore dell'interazione elettromagnetica così come i bosoni W che sono due perché ce n'è uno caricato positivamente e uno negativamente e il bosone Z mediano l'interazione cosiddetta nucleare debole tenete presente che l'interazione nucleare debole e quella elettromagnetica sono state poi unite nell'interazione elettrodebole cioè c'è stato modo di unificare queste due cosiddette forze fondamentali della natura grazie alla teoria di Weinberg Salam che per questo hanno vinto il premio Nobel quindi abbiamo 12 fermioni 12 bosoni di gauge cioè bosoni che servono appunto a mediare le interazioni fondamentali e infine un bosone chiamato scalare il bosone di Higgs una particella che inizialmente non faceva parte del modello standard ma di cui si è scoperta la necessità dal punto di vista teorico e che non molti anni fa è stato possibile osservare seppur indirettamente ma osservare al CERN di Ginevra grazie al potentissimo acceleratore di cui il CERN dispone la funzione del bosone di Higgs si dice di solito che sarebbe quella di dare massa alle altre particelle ma insomma non stiamo a entrare in troppi dettagli allora questo modello standard è stato elaborato nell'arco possiamo dire di una ventina d'anni anni 60 inizio anni 70 dello scorso secolo già la metà degli anni 70 era sostanzialmente completo ai fisici non piace piace pochissimo lo considerano disordinato confuso pieno di difetti da un lato come abbiamo detto ignora l'interazione gravitazionale cioè la quarta forza fondamentale della natura tra le particelle elementari non ci sono i gravitoni cioè le particelle che dovrebbero appunto costituire il campo gravitazionale è vero che un gravitone non è mai stato osservato anche perché per poterlo osservare servirebbe un acceleratore delle dimensioni del pianeta Giove e bisognerebbe che questo acceleratore fosse fatto orbitare intorno a una sorgente potentissima di gravitoni tipo che so una stella di neutroni ed è chiaro che questo è totalmente al di là totalmente al di fuori della nostra della nostra portata ma i gravitoni sono stati teorizzati e il modello standard non ne tiene conto poi c'è da dire che questo modello contiene un numero molto alto di elementi che non hanno spiegazione o che comunque nei termini della teoria non sono calcolabili alcuni li abbiamo già visti no? perché tre generazioni di fermioni e non una soltanto o non ad esempio quattro o cinque non c'è risposta per questa domanda almeno il modello standard non la dà perché proprio quei gruppi di simmetria e non altri sono stati fatti tentativi di individuare dei gruppi di simmetria più ampi che potessero contenere questi tre in vista di una teoria di grande unificazione come viene chiamata ma sono finora falliti tutti quanti perché tutta una serie di parametri cioè di costanti hanno esattamente il valore che è stato possibile calcolare sperimentalmente questo non lo sappiamo la teoria non ce lo spiega è il caso ad esempio delle masse dei quark no? o dei leptoni perché proprio quel valore e non altro i neutrini ad esempio si riteneva fino a poco tempo fa che fossero per quanto riguarda i leptoni i neutrini si riteneva fino a poco tempo fa che fossero privi di massa e invece si è scoperto sperimentalmente che per quanto il loro valore di massa sia molto piccolo però comunque positivo ma non sappiamo perché le costanti di accoppiamento cioè i valori che esprimono proprio l'intensità delle integrazioni anche quelli non sappiamo perché abbiano il valore che hanno la costante di struttura fine ad esempio che è la costante di accoppiamento dell'integrazione elettromagnetica avrebbe un valore chiamato alfa di circa 1 fratto 137 ma non non c'è motivo di sapere di sapere perché e poi una cosa importante è che il modello standard ignora la materia oscura la cosiddetta dark matter no? che della cui esistenza ci si è convinti grazie a tutta una serie di osservazioni cosmologiche il modo in cui si muovono le galassie o addirittura gli ammassi di galassie gli effetti gravitazionali che producono deviazione della luce ad esempio non si spiegano sulla base della della massa no? che quelle galassie o quegli ammassi di galassie dovrebbero avere se fossero costituiti soltanto della materia noi nota e quindi si è dovuto ammettere che ci sia nell'universo no? la presenza di una materia che non è formata dalle particelle del modello standard allora da quali particelle è formata non lo sappiamo anche su questo sono state fatte molte ipotesi continuano ad essere fatti molti studi no? ma finora senza risultato quindi insomma è evidente che il modello standard non sia soddisfacente più di tanto anche se in realtà si è dimostrato estremamente affidabile nel senso che tutte le verifiche sperimentali o meglio tutti i controlli ecco sperimentali che è stato possibile fare hanno sempre confermato la validità di quel modello a dispetto potremmo dire dei suoi dei suoi limiti ma in ogni caso c'è c'è la c'è il desiderio di andare oltre c'è stato fin dall'inizio il desiderio di andare oltre il modello standard di scoprire come dicono spesso i fisici nuova fisica no? scoprire cosa c'è al di là e purtroppo i tentativi che sono stati fatti dalla metà degli anni 70 ad oggi hanno portato una serie clamorosa di fallimenti ed è per questo che nel titolo dell'intervento si parla di crisi della ricerca teorica nella fisica dei fondamenti cosa ha prodotto la ricerca teorica negli ultimi 50 anni ha prodotto la teoria delle stringhe la supersimmetria la combinazione di teoria delle stringhe e supersimmetria nella cosiddetta teoria delle superstringhe la teoria M o teoria delle brane o delle pbrane che sarebbero costituenti delle stringhe teoria nata col tentativo di realizzare un'unificazione delle varie teorie delle stringhe che si erano si erano venute a differenziare fino a quel momento il principio olografico fino ad arrivare alle teorie del megaverso o del multiverso questa è stata definita fisica fiabesca fairy tale physics c'è un libro di un autore inglese un fisico inglese Jim Bagot che si intitola proprio così si intitola Farewell to reality cioè addio alla realtà come la fisica fiabesca ha tradito la ricerca della verità scientifica di tutte queste queste teorie non c'è assolutamente non dico una qualche verifica no ma non c'è alcun riscontro di tipo di tipo spiegamentale è chiaro che non possiamo entrare nel merito non possiamo soffermarci su tutte ma qualcosa possiamo dire a proposito della teoria delle stringhe che è quella che ha avuto il più grande successo ed è quella su cui si è lavorato e si continua a lavorare praticamente da 50 anni a questa parte la teoria è stata proposta per la prima volta da un fisico di nome Yoichiro Nambu che pensava potesse essere utile per spiegare l'interazione nucleare forte bisogna tenere presente che all'epoca non era ancora stata elaborata compiutamente la cromodinamica quantistica e quindi la teoria delle stringhe veniva considerata una soluzione utile per questo scopo e era formulata nei termini di una descrizione classica quindi non quantistica quando si è cercato di elaborare la versione quantistica della teoria delle stringhe che si basa sull'idea che a formare le particelle le particelle del modello standard siano appunto delle stringhe o corde di dimensione piccolissima le quali sarebbero caratterizzate dalla loro tensione tensione che alle alle alte energie si allenterebbe e quindi le farebbe alla fine contrare in un punto così da coincidere con le particelle del modello standard e che invece alle basse energie crescerebbe e appunto farebbe emergere la loro diciamo così filamentosità che garantirebbe il possesso di tutta una serie di proprietà questa teoria delle stringhe dicevo quando si è cercato di elaborare una versione quantistica ha mostrato un'anomalia un'anomalia gravissima cioè la perdita di una simmetria una simmetria fondamentale perché riguarda un parametro una coordinata che serve proprio a descrivere la stringa e quindi senza quel parametro la descrizione matematica della stringa perde completamente di significato e la teoria naturalmente anch'essa non si trattava come dire di un difetto secondario si trattava di qualcosa che poteva inficiare la sopravvivenza stessa della teoria ma si è trovato un espediente si è scoperto che aumentando il numero delle dimensioni dello spazio-tempo dalle 4 cioè 3 spaziali e una temporale che conosciamo a 26 25 dimensioni spaziali e una temporale i termini che stavano all'origine i termini teorici che stavano all'origine dell'anomalia miracolosamente si cancellavano a vicenda e quindi questo permetteva di salvare la teoria nella sua nella sua versione quantistica il prezzo da pagare era accettare però un universo a 26 dimensioni che non è certo quello in cui noi viviamo quindi il problema che emerge è capire di che cosa ci stia parlando la teoria delle stringhe nel 1984 quindi praticamente 15 anni dopo la prima introduzione della teoria si è scoperto che incorporando nella teoria delle stringhe la supersimmetria si poteva ridurre il numero delle dimensioni extra e quindi portarlo a soltanto tra virgolette 10 9 dimensioni spaziali e una dimensione temporale qualcosa che comunque continua a non corrispondere all'universo reale in cui noi viviamo allora mi rendo conto di avere perso il controllo del tempo e di essere andato andato lungo brevissimamente questo che cosa ci porta ci porta a riconoscere che sono state sviluppate delle teorie che mancano di quello che una teoria sembrerebbe dover richiedere per poter essere tale cioè una qualche forma di controllo spiegamentale che le possa avallare che possa in qualche modo giustificarle che possa renderle effettivamente delle teorie quindi in questo senso crisi della ricerca teorica in fisica dei fondamenti purtroppo ho perso un po' va bene vi ringrazio comunque per l'attenzione arrivederci arrivederci